Io mi chiamo William Randaccio, sono di Novara e il mio lavoro è quello di installare le caldaie Ariston. E adesso niente, ci ritroviamo qua e devo dire che è un'esperienza sicuramente non di tutti giorni. La mia missione, quello che mi è stato indicato è installare la caldaia. Le mie aspettative sono quelle di crescere, sicuramente una bella sfida a te stesso insomma. Beh, io ho due bambine, Vanessa e Anastasia, e nella mia valigia ho le foto perché se non posso sentire le mie bambine mi sentirei che mi manca qualcosa. Ce la faremo e sono sicuro perché se inizio una missione vi garantisco che la porto a termine.